Avete mai immaginato di passeggiare lungo i vicoli lastricati di città storiche, di deliziarsi davanti a scenari spettacolari e di assaporare l'immensa ricchezza culturale europea? Dalle vette innevate delle Alpi alle rive soleggiate del Mediterraneo, l'Europa offre una gamma di luoghi incantevoli pronti per essere scoperti. Scopriamo insieme i 20 luoghi più affascinanti da visitare in Europa. Numero 20. Lisbona, Portogallo. Adagiata lungo l'affascinante fiume Tago, Lisbona attira i viaggiatori con il suo passato ricco di storia e i suoi panorami mozzafiato. Come punto di partenza per gli impavidi esploratori dei secoli XV Gigi Satessimo, questa gemma portoghese vanta un'eredità incisa negli annali della storia marittima. Guardando la torre di Belem, guardiana del XVI secolo, imponente sulla sponda del fiume, sembra di sentire l'eco di vecchie storie. Esplorate le maestose altezze del castello di San Giorgio, un gioiello moresco che domina la città, per una vista panoramica sull'incantevole vecchia Lisbona. Numero 19. Gulfos, Islanda. Esplorate la terra di ghiaccio e fuoco, dove vi aspetta la bellezza elusiva dell'Islanda. Nel selvaggio paesaggio del sud dell'Islanda si nasconde l'incantevole Gulfos. Questo fenomeno naturale, con la sua maestosità glaciale, affascina con un incanto surreale. Il fiume Ulfis scorre audacemente giù per una cascata su tre livelli, formando un percorso attraverso un canyon profondo 35 metri. Numero 18. Atene, Grecia. Abbracciate la culla della democrazia e il luogo di nascita della civiltà occidentale nell'illustre città di Atene. Ricca di storia che risale al V secolo anticristo, Atene emana un'aura di antica saggezza e illuminazione. Passeggiate attraverso il terreno sacro dell'Acropoli, dove gli echi del passato risuonano attraverso punti di riferimento iconici come il Tempio di Zeus, il Teatro di Dioniso e il leggendario Partenone. Numero 17. Baia di Cotor, Montenegro. Scopri un angolo di paradiso annidato nell'aspro abbraccio del Montenegro, dove la Baia di Cotor si svela come un segreto sussurrato tra le montagne. Osserva il panorama mozzafiato dove acque azzurre accarezzano le rive incorniciate da borghi medievali aggrappati alle scogliere. Passeggia tra le antiche strade di pietra, dove chiese ortodosse e cristiane si ergono come testimoni silenziose di secoli di pellegrinaggi e contemplazione. Numero 16. Pirano, Slovenia. Una perla sulla costa slovena, Pirano si distingue per la sua magnifica architettura veneziana e una storia ricca. Passeggiate nella meravigliosa piazza Tartini, lasciatevi affascinare dalle viste panoramiche offerte dalle sue mura secolari, visitate la tipica dimora veneziana e scalate il campanile di San Giorgio per ammirare paesaggi indimenticabili sull'Adriatico, l'Italia e la Croazia. Anche senza spiagge sabbiose, Pirano offre un'esperienza balneare unica, con le sue coste frastagliate. Numero 15. Venezia, Italia. L'amore si diffonde attraverso le scale e i canali di Venezia in una dolce melodia, avvolgendo i turisti in un abbraccio senza tempo. Viaggiate lungo l'imponente Canal Grande, circondati dalla tranquillità di canzoni d'amore italiane, in un tributo alla perpetua passione per la città. Esplorate piazza San Marco, dominata dall'imponente Palazzo Ducale, emblema dello splendore di Venezia. Salite sulla Basilica di Calle per ammirare una vista spettacolare di Venezia sull'acqua. Attraversate i suoi ponti ricchi di storie di resilienza. Numero 14. Budapest, Ungheria, dove ogni angolo narra storie di maestosità. Dal vasto Danubio all'architettura che mescola barocco, neoclassico e art nouveau, Budapest affascina. Si può vivere il suo incanto risparmiando con tour gratuiti, visitando Piazza degli Eroi o godendosi un picnic nel parco cittadino, assaporando l'atmosfera unica. Budapest propone esperienze culturali e gastronomiche indimenticabili. Numero 13. Alhambra, Spagna. Lasciatevi incantare dall'Alhambra, un imponente palazzo fortezza a Granada. La sua eterna bellezza e storia affascinante vi catapulteranno in un mondo di stupore. Scoprite questo affascinante complesso, un tempo dominio dei regnanti cristiani e luogo dove Colombo incontrò il suo destino, immergendovi in secoli di storia. Ammirate la perfetta fusione di stili architettonici e perdetevi nello splendore dell'arte e dei giardini. Numero 12. Firenze, Italia. Rivelandosi come il faro che illumina l'Europa dal buio, Firenze si distingue per i suoi contributi al Rinascimento. La maestria di Michelangelo viene alla luce nella Galleria degli Uffizi e all'Accademia, mentre il Ponte Vecchio narra vecchie leggende al sapore di gelato. Lasciatevi avvolgere dallo sfarzo di Palazzo Pitti, emblema del potere dei Medici. Restate incantati di fronte al Duomo. Una meraviglia architettonica che segna l'apogeo di Firenze. Numero 11. Londra. Regno Unito. La storia si fa sentire a Londra, dove i palazzi riecheggiano di storie di monarchi del passato. Dal regale Buckingham Palace alla formidabile Torre di Londra, ogni edificio dà vita al patrimonio inglese. Fare acquisti da Knightsbridge fino a Carnaby Street, vivendo la dinamicità urbana, muovetevi agilmente attraverso il dedalo di vie londinesi con l'ausilio della famosa metropolitana, esplorando un mix di novità e costumi antichi. Numero 10. Berlino, Germania. Esplorate l'essenza di Berlino e dell'Europa, ricca di cultura e innovazioni. Tuffatevi nella storia e nella vita attuale, un connubio di eleganza e appeal metropolitano. Visitate il famoso muro di Berlino, decorato con graffiti, all'Eastside Gallery, capitale europea delle feste. La vita notturna di Berlino è un richiamo per la convenienza e l'eccitazione infinita. Numero 9. Amsterdam, Paesi Bassi. Percorrendo i tortuosi canali di Amsterdam, si scopre una città ricca di fascino e di storia. Scoprite le pagine struggenti del diario di Anne Frank all'interno del suo rifugio segreto. Il ricco museo ospita i capolavori più preziosi d'Europa, mentre la casa di Rembrandt e il museo Van Gogh rendono omaggio alla genialità artistica. Godetevi l'anima della tradizione olandese alla Heineken, con le sue birre frizzanti in un contesto di eredità eterna. Numero 8. Praga, Repubblica cieca. Scoprite Praga, una città con un passato incantevole e turbolento, ora una delle principali mete turistiche in Europa. Pur con le ferite della guerra, il cuore antico di Praga seduce con la sua eterna bellezza e vasta eredità. Camminate nelle aree pedonali, viaggiate oltre il famoso castello di Praga, esplorate l'antico ghetto ebraico e attraversate il magnifico Ponte Carlo. Quando il sole tramonta, immergetevi nella vibrante vita di Piazza Venceslao, animata da un'elettrizzante vita notturna. Numero 7. Istanbul, Turchia. Avventuratevi a Istanbul, un'affascinante crocevia dove l'Est incontra l'Ovest, offrendo un arazzo di culture e tradizioni secolari. Ammirate il maestoso stretto del Bosforo, che collega i continenti, ed esplorate l'iconica Basilica di Santa Sofia, testimonianza del variegato passato di Istanbul. Addentratevi nella storia sfarzosa del palazzo Topkapi e perdetevi nei labirintici vicoli del Gran Bazar, rifugio dei cercatori di tesori fin dall'antichità. Numero 6. Fiordo di Geiranger, Norvegia. Fuggite nella bellezza mozzafiato del fiordo di Geiranger, gemma nascosta della Norvegia incastonata tra paesaggi incontaminati e acque azzurre. Partite per un viaggio panoramico attraverso questo fiordo di nove miglia, ornato da cascate e villaggi incantevoli. Tenete d'occhio le leggendarie cascate delle sette sorelle e dei pretendenti, avvolte nel folclore, e ammirate l'etereo velo da sposa. Cascata A, una visione di serenità in mezzo a scogliere scoscese. Numero 5. Barcellona, Spagna. Scoprite il vibrante mosaico di Barcellona, una metropoli dinamica dove la storia antica si interseca con l'architettura d'avanguardia. Esplorate le meraviglie architettoniche di Antoni Gaudì, tra cui l'iconica sagrada familiare, simbolo di una continua evoluzione. Passeggiate lungo il vivace lungomare della Rambla, assaporando l'eclettica miscela di cultura e cucina che definisce questo gioiello mediterraneo. Esplorate il cuore di Catalogna nelle vivaci strade di Barcellona, bagnate dal sole. Numero 4. Dubrovnik, Croazia. Conoscete Dubrovnik, un gioiello affascinante, piccolo in dimensioni ma immenso all'esterno. Con meno di 43.000 residenti, questa perla costiera seduce per le sue mura antiche e il patrimonio marino, camminate tra le sue vie storiche, decorate da sculture che incarnano l'anima dell'eredità di Street Vallejo, festeggiata ogni anno. Immergetevi nell'atmosfera unica e nella storia densa di Dubrovnik, che vi riporta a un'era di lusso mediterraneo. Numero 3. Santorini, Grecia. Rifugiatevi nella incantevole Santorini, nel mare Geo, luogo desiderato e lodato dalle principali guide di viaggio. Immersi in paesaggi incredibili e vulcani attivi, i suoi villaggi pittoreschi attraggono viaggiatori a cedere alla sua bellezza. Esplorate il fascino delle scogliere di Firos e gustate le specialità locali migliorate dal suolo vulcanico. Godetevi tramonti magnetici e l'aura affascinante dell'isola, facendo di Santorini un rifugio memorabile. Numero 2. Parigi, Francia. Parigi, la città senza tempo del romanticismo e dello splendore, offre un caleidoscopio di ricchezza culturale e di delizie culinarie. Lungo la Senna, dall'iconica Torre Eiffel alla grandiosità del Louvre, Parigi è un tesoro di storia e genialità artistica. Ammirate le meraviglie architettoniche come Notre-Dame e il Sacre Coeur, mentre vi concedete l'alta moda e la cucina gourmet. Esplorate la magnificenza di Versailles e lasciatevi avvolgere dal fascino di Parigi ad ogni cammino. Numero 1. Roma. Italia. Esplorate l'imponente eredità romana, dove meraviglie antiche si fondono con l'energia moderna. Lasciatevi incantare dal Colosseo, le cui mura antiche ancora fanno eco alle battaglie, dei gladiatori. Esplorate il Vaticano, dove la maestosa Basilica di San Pietro, abbellita dalle opere di Michelangelo, potrebbe offrirvi una vista del Papa il mercoledì. La storia e il dinamismo di Roma si fondono, spingendovi verso un'avventura unica tra cultura e spiritualità. Se hai apprezzato questo video e lo hai trovato utile per la tua prossima avventura, premi mi piace e iscriviti al nostro canale per altri video di viaggio.